Aspetta Fra Sì no vabbè Sì Questo caso lo possiamo scendere E appunto quello non dovrebbe essere Puoi farlo in diagonale come spiegavi Sì Adesso è un po' troppo Cioè poteva essere leggermente più duro L'impasto più duro L'impasto più duro Meno acqua No meno acqua Meno acqua E la faglia come fai a capire quanto è più? I piedi Senti la consistenza Comunque se vedete che spancia Fermatevi Prima Sì anche 40 cm E fate asciugare Oppure se un impasto è più duro Usate prima quello più duro Allora vedi che io schiaccio E praticamente spingo la Cioè la parte della Cioè la parte della Palla di sopra In quella di sopra In modo che si crea Si compatta Si compenetrano Poi non è che deve essere preciso Perché qui poi riempiamo quindi Adesso è anche un po' difficile perché è inclinato Sì Sì Guardate Tirarlo su un po' dritto Mi piedi dietro uno spessore per tenere verticale Sì 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 Sì